ciao ragazze bentornate sul mio canale oggi un video un po diverso dal solito nel quale vorrei farvi vedere come ho adattato le pagine personal di coco attesi ad un tn in formato appunto personal e in questo caso questo qui è di prima marketing è un tn che ho ricevuto dalla mia amica manuela che saluto che era la prima persona interessata a capire come avevo fatto a fare questo questo inserto che vi sto mostrando e quindi so che almeno insomma lei lo guarderà e scherzo spero almeno anche altri due tre amici che corrompo ogni mese per vedere questi video impacciatissimi se riesco mi cimento anche in un tutorial per farvi vedere come ho effettivamente svolto il lavoro intanto lo sfoglio insieme a voi come copertina ho scelto il divisorio personal di ottobre con la tab e quindi all'interno ha già il suo calendario poi ho messo una pagina del settimanale perché mi piaceva a scriverci domani lo compilo le cose che voglio fare un determinato giorno ogni mese non so smalto piuttosto che una cosa del planner eccetera eccetera e poi ho inserito tutte pagine giornaliere e voi mi direte perché non hai qua vedete cosa ha compilato le cose riguardanti oggi e direi perché non hai non usi un tesi d'orio perché in verità mi piacciono tantissimo queste pagine del daily to do e quindi volevo trovare un modo di usarle in maniera utile ma che fossero anche leggeri occupassero poco spazio nel nella borsa e mi è venuta questa idea intanto vi sfoglio praticamente ho messo tutti i daily to do in centro ho messo la visione mensile così quando apro il planner ce l'ho subito presente con tutti gli appuntamenti le cose da ricordare e poi altre pagine giornaliere fino alla fine molto molto semplice per rilegarlo è stato una cosa nuova e cioè praticamente l'ho cucito con la raffia in color questo tipo fucsia burgogna che si sposava benissimo con con le pagine avevo provato all'inizio a bucarlo ma purtroppo le mie graffette non tenevano queste pagine belle spese di coccoa e quindi ho dovuto ripiegare sulla cucitura che penso comunque adotterò anche nei prossimi mesi per evitare l'effetto scalatura perché vedete senza la copertina come le pagine fanno comunque la piegano qui e ho praticamente fatto la copertina leggermente più ampia in modo che non si veda appunto questo dislivello però si poteva anche secondo me tenere così perché questo effetto degrade delle pagine decorate di coccoa comunque molto molto piacevole alla vista per il retro copertina ho scelto una cartoncina nella una dashboard scusatemi del formato a 5 adattato al person e l'italiato e incollato qui ho messo una regina di washi perché mi piaceva allora vi faccio vedere come ho unito effettivamente le pagine perché non so se notate ma vedete non si vede che insomma il punto d'unione giusto incontro luce si nota vedete lo scotch su una parte se non avessi sbagliato con il discorso dei buchetti con la cucitrice secondo me sarebbe stato ancora più carino ma imparerò per il prossimo mese vi faccio vedere velocemente come ho fatto allora praticamente prendiamo il settimanale su due pagine che ancora non ho usato non ho creato l'inserto prendete le vostre due pagine del che volete unire lo scotch trasparente ora naturalmente prima del video non ho pensato di trovare il segno ma dai siamo stati fortunati poi sul tavolo proprio così asso passerà davanti alla camera ho incollato lo scotch vedete su metà della della facciata l'ho fatto aderire bene l'ho ritagliato con la forbice poi no semplicemente alzato ci ho appiccicato dall'altra parte vediamo se riesco a farvi vedere nell'inquadratura la pagina in questo modo in modo che non sovrapponga a far spessore ma che sia così vedete così viene unita poi ho ritagliato gli eccessi di scotch e questo per la pagina che sarà in fondo perché così da questa parte che sarà quella bella che vedrete come prima di copertina non si vedrà lo scotch mentre invece per non far vedere lo scotch da davanti vi prendo un'altra settimana agite alla stessa maniera ma mettete lo scotch dalla parte esterna vedete quindi praticamente scotch sempre metà su per giù insomma io poi l'ho veramente voluto fare a spanne un po alla buona senza stare lì troppo a farla complicata allo staccate girate anche la l'altra pagina incollate ora davanti alla videocamera un po più difficile di come di come appare la paella in realtà scusatemi ma il cavalletto proprio tra me e le pagine quindi sembra un po più complicato poi ritagliate sempre la parte in eccesso magari in maniera un po più precisa anche di qua parte in eccesso e vi faccio vedere il risultato vedete qui dalla parte interna non si vedrà niente si vedrà solo un po dalla parte esterna e così via quando avete incollato tutte le vostre pagine io potete scegliere una copertina io ho scelto le copertine queste delle dashboard personal allora se le pagine sono poche potete il scotchettare direttamente due pagine due dashboard personal e farne una copertina se invece volete evitare l'effetto scalatura se avete tante pagine come nel mio inserto cosa fate prendete una di queste che è giusto poi un cartoncino del planner kit in altezza lo ritagliate giusto mentre invece nel laterale lasciate tre centimetri in più e fate una piega a un centimetro e mezzo cosa succederà fate finta adesso io non ho ritagliato niente il primo centimetro e mezzo lo sovrapponete in questa maniera vedete il secondo centimetro e mezzo sarà quel che in più che farà sì che non fa più la piega non si vedono le pagine di scalatura e il risultato sarà appunto come il mio vedete aperto vi faccio vedere vedete questo è il centimetro e mezzo in più che quello che fa guadagnare alla dashboard iniziale quel bordino che vi nasconde la scalatura delle delle pagine all'interno vedete che è stato incollato il sovrapposto in questa parte qui ed è appunto da anche molta stabilità alla copertina come vedete un lavoro molto made molto molto semplice da fare una ragazza mi chiedeva se regono le pagine con questo discorso della cucitura posso tirare finché mi pare reggono benissimo naturalmente questo metodo si può personalizzare proverò anche io qualcosina di diverso per il prossimo mese ma intanto devo dire molto soddisfatta molto leggero fatto come lo voglio io perché anche voi potete invece non so di unire il mensile al centro potete evitarlo potete mettere il settimanali potete fare il vostro insert come vi pare con la bellezza delle pagine di coco adesi del insert planner è tutto qui fatemi sapere se sono stata chiara oppure se devo darmi all'ipica no scherzo se avete qualche suggerimento per migliorare i video le spiegazioni se il tutorial comunque vi è piaciuto e lasciatemi un commentino che mi fa felice ciao a tutte e buon craft